che bello ciao vai allora l'ha presa la gerardina perché io stavo truccando quella signora lì la mamma del bimbo sì me la ricordo lei ha avuto un fisetto tu sei già nata al trucco tutto a posto io sono truccata io ma no ma come un disastrito perché era una serata sì 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 con tavoli e con come va tutto bene sono contentissima poi una volta viene anche con Cesare quando c'è Cesare Cadevo sì 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 infatti visto che siamo tutti ti trovo bellissimi a solito è importante niente sono tornata al mio vecchio lavoro sì 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 e come se ci compagni tutto bene si compagni tutto bene si compagni tutto bene si parata adesso passa in mezzo alle gambe no la testata di uno e il portiere è spiazzato vedi la testata guarda 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 vedi stradetto autogol non mi credi Fulio ultimamente eh no no eh è un vantaggio per quello che ti ha visto in ritardo anche se rimane a orgoglio eh 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 che cosa è già meglio no anche quella seduta non è male allora è fatica perchè qua c'è una patinina è perfetta tutto a posto? stiamo facendo un book fotografico ah no questa è la mia è troppo bella però adesso sto aspettando proprio di firmare il suo nuovo contratto che tra l'altro mi ha trovato anche lui il lavoro e niente poi io lo moneggio con gli achesi ehm cura anche l'agenzia loro che la talent se lo mettiamo già ah sì farlo non c'è problema non succede niente ma lo sapete è una gara che una giurezza è un mondo e e non è che ecco dai ci sentiamo dopo allora va bene grazie ciao allora non ci serve il poste perchè non c'è nel video e nell'audio dallo stadio o nella coppa web che facciamo? no noi prendiamo il cellulare di Luca Parabendi e lui lo mette davanti a Mosca Tempi lui fa la cosa grazie 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 C'è i 9 pubblicitari. Vabbè, questo non lo diciamo, perché sennò dovremmo anche parlare di ieri, di dicembre, che anche le squadre italiane hanno fatto un po' di casini. A me non piace questa nera con la fronte bassa. Ma che butta che è, sembra un cagnolino spaventato, sabiolo. Ciao! Ma per chi è questo? Ragazzi, ma però continua a menarcelo. C'è il Milan anche qua, eh! Che bello! Vuoi fare una foto? Come si legge la cosa della Sampdoria? È così. Vuoi fare una foto? Eh sì. È meglio che ce le fai mentre siamo... Ma dov'è il mio scabello? Questo qua? Milan 1 Zurrigo 0 Neapoli 2 Benfica 1 Ciao! Posto pagato a mille questo, eh! No, curina! Il segno per me è il segno per me. E al vivo... Eh, bisogna vedere se me lo ricordo io. No, ma è il mio scabello. Ma quindi il diesel... E ormai è donna di televisione, eh! Buona buona via! 1, 2, Zurrigo 49, 47, 48, 49, 50... Devo parlare, eh! 1, 2, 3, campionato dei campioni serata di Coppa UEFA! Sono... Sono... Senti, domenica è il campionato, ieri incontra... Cagliari, Milan Lazio... Milan Lazio... Milan Lazio, sì... Milan Lazio che va fuori... Non mi scabbo, buona televisione a testa... 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10... Ok, grazie! Adesso Bucchioni... Sì, da dove? Pronto a te! Vai a sentire! Cattiani è il fuoco della fine di essi? No, è argentino, il pacogino di Sore! Non c'è un po' minuto, Luca! No, non c'è un po' minuto, Luca! Ah, ok! Vedete più la misura e con il camere! No, niente, niente, mi c'è messo il cuore! Poi, quando parlano di italiano, italiano, tedesco e tedesco... Siamo nati, provo di fuoco... E' un po' minuto, Luca! E anche delle cose che si... Peccato che non ti riferisci a me, cazzo... Sono un bel ragazzo... Posso piacere? E' un po' minuto, Luca! Sì, vieni, Gattatiana e o? Sasserai! Ma, 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 ma... Gigi, leggiti questa! Gigi, ho cancellato le altre! Sono Roberto, vivo a Londra, per cui ci seguono anche da Londra, da 12 anni, quindi ho vissuto l'Evamu... E' una grande sconfitta di Morino, e l'ho mandato! Questo è Juventino, eh, questo è Juventino, Juventino Doc! Grazie. Grazie.